È meglio portarsi un amico che ti tenga compagnia quando vai al bar! Oh, patatine fritte! Il gelato a forma di patatine fritte è davvero gustoso! Johnny sta diventando invidioso! Ellie non si aspettava un attacco del suo amico geloso! Cos'è più cool? Il gelato o il cibo normale? Ellie pensa di aver già vinto questo round! Johnny saprà sicuramente prendersi cura di questo mucchio di dolci! Come non piangere in questa situazione? Qualcosa è andato storto! A volte hai bisogno dell'aiuto degli amici! Ellie sta distruggendo il gelato! Johnny ha abbandonato la competizione appena in tempo! Uno, due, tre! Wow, che puppet luminoso! È ora di iniziare! Ellie non riesce a masticare questo gelato! Johnny è riuscito a evitare questo problema! Ha un impressionante effetto antistress! Addio preoccupazioni! Che ne dici di uno scambio equo? Ora Johnny ha ottenuto il giocattolo che voleva! Non potrebbe essere più felice! Anche l'altra concorrente è soddisfatta! La sfida del cibo contro il gelato continua! Wow, un'anguria succosa è una bella sorpresa per Johnny! Che appetito! Il gelato all'anguria è delizioso! Dopo aver finito il suo piatto, aiuta l'altra persona! Ci sono tante argomentazioni persuasive! La rivale è pronta ad arrendersi senza combattere! Lo sparanoccioli umano ha raggiunto il suo obiettivo! Ancora? È pericoloso far arrabbiare un cecchino affamato! L'ingenuo Johnny non sa cosa sta andando incontro! Giocare con Ellie è molto rischioso! Soprattutto se nella completa oscurità! Ehi, ma può farlo? Qualcuno fermi questa imbrogliona! C'è un'altra porzione! Non è troppo per una sola ragazza! Dalla velocità con cui mangia, direi di no! Johnny continua ad aspettare! Ed Ellie ha deciso di farsi una maschera al cioccolato! Basta! Non può più aspettare! Oh, qualcuno dovrà dare delle spiegazioni! Chissà com'è successo! Fortunatamente c'è l'amica a supportarlo! I ragazzi hanno un nuovo round! Chi inizierà per primo? Hmm, gli hamburger! Sembra che Johnny non se la stia cavando male! È stata una decisione avventata! Cosa farà adesso? Inizia un workshop sul mangiare hamburger? Cos'è quello strumento magico? Originale! La cosa importante è che tutti siano felici! Ecco finalmente un nuovo round al cioccolato! Ed Ellie ha trovato una gustosa barretta con effetto magico! Solo pochi secondi, il concorrente si blocca! Ricorda questa semplice regola! Se hai finito il tuo, prendi quello di qualcun altro! Cosa rimane a Johnny? Può solo guardare la sua porzione di dolci che scompare! È tornato alla realtà! Ma non è molto felice! Wow, c'è una delizia al cocco nel piatto! Devono gestirlo con cura! Oppure qualcuno potrebbe farsi male! Ellie non conosce il detto Con cura! Ma Johnny non ha domande! Mangia! E mangia! Questa è un'azione insolita da parte del proprietario della noce di cocco gelato! Ellie dovrà andare dal dentista dopo questo round! Ecco il nuovo dolce al cioccolato! È troppo semplice! Wow! Johnny è diventato il felice proprietario di una torta enorme! Prepara le armi! Prepara le armi! Come non essere invidiosi! Ah! Non è valido! Come dire di no a questi occhi! Il fine giustifica i mezzi! Questa ragazza carina sta mangiando cioccolato alla velocità della luce! L'aspetto può ingannare! Gelato fritto e palline di formaggio sembrano uguali! Inquietante! Oh! Troppo caldo! Troppo freddo! Questi cambiamenti di temperatura sono troppo drastici! Molto meglio! È tutta questione di equilibrio! Questa volta gli amici hanno un round migliore! Ellie ha trovato il gelato e Johnny la cioccolata! Un gioco dentro un gioco! La biondina accetta di partecipare! Che sfortuna! E se provasse un'altra volta? Che cosa è ingiusta! Questo è il vero significato di perdere! Senza dubbio! Il genio del male si sente in colpa per questa povera golosona! Il caffè di Starbucks è delizioso! Ma il frullato è molto meglio! Esatto! Un momento importante come questo dovrebbe essere catturato! Mentre la modella si prepara, il fotografo invecchia! Come si può essere così maleducati? Una sfida può essere molto stancante! Non cercare di farle cambiare idea! Ellie non ha abbastanza spazio per questi deliziosi noodles! E Johnny non vuole questo cono gelato! I partecipanti non sono bravi a combattere a parole! Wow! Che bel cappello! Effetto rinfrescante! Ellie ha un cappello più cool! Le decorazioni fatte di noodle lo rendono ancora più trendy! La moneta deciderà chi riceverà cosa! Johnny ha il diritto di scegliere per primo! Bene, cosa abbiamo qui? Un avocado! È una bella sorpresa! Questo avocado è davvero così buono! No, è solo un piano super furbo per ottenere il gelato tanto desiderato! Johnny ci è cascato! La gente dice che la cucina messicana è piccante! Bene! I ragazzi sono pronti a verificarlo! Un vero taco o un taco gelato? Qual è più gustoso? È buono ma non abbastanza! Come distrarre la rivale senza farsi beccare! L'enorme cappello di Ellie le ha giocato uno scherzo crudele! Beh, chi è quel furbacchione che ha mangiato tutto? Le uova strapazzate sono la nuova sfida dei partecipanti! Ma le uova di Ellie sanno di gelato! E Johnny deve improvvisare! È un attore davvero talentuoso! E sta lavorando sodo! Ecco la dolce ricompensa! È da Oscar! Questo round ha un sapore aspro! Questa è una vera sfida per le papille gustative! Oh, questo frutto è troppo succoso! Ellie deve proteggere gli occhi! La gentilezza di Johnny non conosce limiti! Speriamo che gli occhi di Ellie stiano bene! Sì, è tutto a posto! Ha fatto contemporaneamente uno spuntino e una maschera al lime! Gli orsetti di gelatina e la sprite sono una combinazione perfetta! Nessuno ha mai detto di no a una bibita! Johnny mangia pile di caramelle! Mentre Ellie è triste! Come potrebbe non esserlo? Questi orsetti sono congelati nella sprite! Un fornello a gas tornerà utile! È una misura drastica! Ma Ellie ci prova lo stesso! La cosa importante è non esagerare! Gli spettatori sono preoccupati e incuriositi! E qual è il risultato? Un risultato strabiliante e una reputazione! La reputazione rovinata! E ora? È deciso! Ellie inizia per prima! Un gelato al mandarino è il sogno di ogni goloso! Sembra proprio vero! Johnny sente il sapore agrumato della perdita! Il frutto è un po' aspro e non sembra molto buono! Devi vedere il lato positivo! Ellie ha imparato a combinare l'impossibile! Ecco il piatto per la spazzatura! Ti dispiace? Ecco la tanto attesa finale! I sogni si avverano! E Johnny lo sa! Ma festeggiare da soli non ha senso! E il pianto di Ellie rovina l'atmosfera! E se lui realizzasse il suo desiderio? Questa ragazza è fantastica! Un pianeta commestibile fa parte dell'universo felice dei due amici! Che belli è tu fine! Un pianeta commestibile fa parte dell'universo felice!